Oramai siamo nel pieno dei lavori sia da un punto di vista nostro di produzione perché tra pochi giorni iniziamo proprio le prove al Teatro Coccia di Novara per poi spostarci qui per le prove generali e anche qui in cava stanno facendo i preparativi per adeguare il palcoscenico dell'anno scorso alle misure necessarie per Aida che ovviamente è un allestimento molto importante anche a livello di numero di presenze sul palco. Tra l'altro la cava è cambiata rispetto all'anno passato? Sì assolutamente, hanno proprio tagliato un lato del quadrilatero che era presente l'anno scorso quindi adesso è bellissima anche perché si affaccia a tutta la ballata. Sarà un'Aida molto particolare? Sì, è un po' una nuova direzione che stiamo intraprendendo che poi si potrà anche scoprire nello spettacolo successivo cioè di lavorare con video proiezioni immersive che avvolgono completamente lo spettatore a 270 gradi. Si prosegue il 23 luglio con Gravity Show. Sì, abbiamo pensato di festeggiare anche noi questi due grandi anniversari del 2019, quello dell'allunaggio che è stato proprio nel luglio del 1969 e i 500 anni di Leonardo da Vinci dalla morte. Quindi il tema del volo, il tema dello sfidare appunto la forza di gravità mi sembrava molto bello da affrontare anche in questo spazio comunque un po' lunare. E la chiusura con Next Ones. Sì, esatto. Quest'anno abbiamo una programmazione molto ricca, sono due giorni che vengono anche ampliate con una programmazione di urna, con delle passeggiate, con delle escursioni, con la scoperta del territorio per poi concludersi domenica 28 con una passeggiata e un brunch per conoscere il villaggio Ghesche che l'associazione Canova sta ristrutturando.